Attenti al web, direbbe qualcuno, ma quella che potrebbe essere una battuta comune oggi è realtà. Sono numerosi i casi di cyberbullismo e di truffe realizzate attraverso la rete. Per questo la polizia postale sensibilizza tutti i giovani ad avere un comportamento prudente nei confronti di internet, mezzo straordinario ma ricco di insidie. Il fenomeno che ha la maggiore incidenza è proprio quello relativo alle truffe online. Il cyberbullismo è diffuso ma grazie al cielo non particolarmente nella nostra area geografica. Non abbiamo avuto casi di particolare rilevanza, qualcosa è successo ma comunque sono episodi che è stato possibile immediatamente recuperare proprio individuando gli autori, poi nella stragrande maggioranza dei casi come lei sa si tratta di coetanei, quindi di minori che opprimono altri minori. Il problema delle truffe è un problema che invece si sta affermando in modo abbastanza significativo. Un appello ai giovani state attenti. Ma si, ti va a diventare tutto questo computer, uscite, andate a Mondella, e poi quando volete conoscere una persona, almeno come, bello, non c'è cosa migliore di conoscere una persona vis-à-vis, non perché sai, poi magari le vedi con le foto, poi magari le vedi, io sono sempre all'antica, meglio tinto canosciuto con buona canoscere. Arrivederci!